Dai che bravo, bravissimo caspita Allora tra l'altro ci hanno un po' scammato Perché a quanto pare giochiamo alle 4 e non alle 3 Io pensavo di iniziassimo alle 3 quindi ho detto vabbè abbiamo più tempo per fare un po' di boo Cioè in realtà anche troppo riscaldamento quindi Con calma, non ho idea beta, assolutamente non ho idea E no perché hanno avuto problemi e qualcuno ha dovuto spostare Anzi in realtà qua si devono finire per giocare domani però Insomma tutto risolto solo che slitta di un'ora Perché giocano prima un'altra partita quella di domani credo Anticipata oggi, boh Se ho capito bene una roba del genere Ok, allora vorrei piazzare una wardicina, vorrei piazzare Hanno patchato ragazzi, cos'è cambiato? Eh sì esatto sì Ormai main, ormai main Ciao Arci Dovresti darmi qualche consiglio perché hanno patchato e mi sono perso la patch Come la black lever, come l'eclissi, healing reduction And stuff anche Ah vedo che il test è ancora quello vecchio Ah no c'è scritto 0% che non l'hanno levato Però però è fissato Black lever broken, add carry broken, rengar broken Ok, death dance è una chiavica Ma la patch line non l'ho mai giocato ragazzi Questo è il primo game con la patch Volevo un po' provare, volevo No grazie Vavu, grazie le 17 Ciao Maxia Death dance cringe Meno male, meno male Cioè meritava di essere cringe Allora faremo eclissi, black lever e Non lo so Spear of Shojin su ogni champion Andiamo full cdr, vediamo Quindi add carry broken, avete detto E oggi giocao contro counter sulla live patch Mannaggia, vabbè, lo batteremo lo stesso Non ne ho idea, non ne ho idea Luca Anche perché prego la patch che gioco Ma bad non sarà Però boh, vedi qualche otp, cosa fa, come lo gioca, eccetera eccetera Link reduction poggers Ok, ok, ci sta Stato a spottate l'ice Giffa patting into bot La possiamo andare a invadere credo, dai Perché no, perché no Giffa staitem e 2 crit a 600 Ok, curioso actually Sono curioso di vederlo Fun stuff insomma, fun stuff E poi che altro, che altro I bruiser in generale, come sono Ehi ragazzo, ho già mancato di rispetto Sono pure morti gli avversari, c'è una tragedia per loro Se mi conviene andare qua, va Eh, non lo so, dovevo prendermi l'assi su Xeraf Anche se l'invader è perfetto, però Va bene, va bene Pinghiamo, pinghiamo Eh, non saprei cosa altro hanno utilizzato To be honest Eh, e là, e là, e là, e là, e là In tutto ciò ho un solo assist Lì c'era la signorina Eliza ancora Oh no, le mie ragazze, le mani veramente Sono due blocchi di ghiaccio Sempre alle 3 inizia, sempre alle 3 Oh, le ringrazio infinitamente Kinder e paradiso sempre due Eh, perdonami, perdonami, ora rimedio Non so se mi è tardi di iniziare Però questa settimana facciamo, eh Dan Questa settimana facciamo perché ci sono Oggi no, perché è la BCS Ma dopo oggi, le prossime giornate sono il 4 e il 5 mi pare O qualcosa del genere, quindi Tra domani e tutti i giorni, prima di quelli Ci sono, anytime Easy easy Per la BCS solo Nunu Ah, no, il giorno 1 Allora ho detto una sciocchezza No, questo non lo puoi dire Pericolosissimo Vabbè, comunque, quando non c'è la BCS Ci sono, per farla breve Yumi è un minion Eh sì, immagino sia un minion Yumi Non la piccheremo Mannaggia Se giochiamo la live patch Ah, il ragazzo ha rommato Bro qua, bro, vado a mi abbandonare Sei un criminale Il nostro Il nostro train Mi ha venduto Mannaggia Allora è andata bene Però potrebbe essere meglio Cioè, oddio Potremmo fare uno per zero A quanto pare così è meglio No, così è peggio Cringe Vabbè, non è importante Vediamo un po' come si build Eh, lo scatto al top Lo abbandono? Sì, lo prendo dopo Dov'è che sta? Dov'è che sta Eclissi? Dai, guarda che bella buildata così Figata Vediamo un attimo l'Eclissi Perché devo vedere una cosa Allora È arrivata Sì Mi arriva anche il rimborso Quindi stonks No, non credo Yes Sicuramente No, no Si gioca sulla live patch Si gioca, ragazzi Si gioca sulla live patch Me l'han detto oggi O ieri Quando me l'han detto Cioè, era stata una votazione Qui non ho votato, ovviamente Qui non ho partecipato Vot, possiamo devarli? Maybe Ci possiamo aprire il pensierino Andiamo a vedere se è bordato Mannaggia Eh, sono ancora devabile questi ragazzi, eh Io col peperone mi curo Ok, ok Rassing Ci piace Ma la ward non è riuscita a levarla? Mmm Allora, se viene Trindale Doviamo Easy Easy Grazie Fire Dei 18 Grazie per il sub No Perfettissimo Ah, la torre Ops Ops Ma non è che muoia adesso Sarebbe Trindia a morire Sarebbe Ok Le mani fredde, ragazzi Giuro, sono le mani fredde Ma proprio congelate Non fredde, cioè Ho detto Blocchi di ghiaccio Allora, allora Quella non credo Udyr è stato nerfato In realtà Se ne avessero fatto Udyr o Beast Se ne avessero fatte Kindred Cos'altro ne avessero fatto? GP forse O ne avessero fatto un botto di roba Ne avessero fatto Però lo sapete meglio di me Dopo ci andiamo a leggere le patch Per le patch notes Per sicurezza Le sentiamo Udyr o me è stato toccato? Ah, allora forse Mokai Boh Me l'avevo sognato Udyr Pensavo l'avessero nerfato Ops Grazie, grazie VK Udyr è morto Ah, vedi anche Udyr Meno male Meno male, meno male Quella bestia Ehi là, salve signor Chuck Ciao Lady Grazie mille Crepy Andrà bene Andrà bene Sì Infatti quando ho letto il messaggio Da 54 a 52 Ho pensato Ma 52 E' ancora broken C'è Facciamoci Facciamoci le radva Siamo topside Siamo scammati la jungle Mannaggia Alle 16 Voglio provare Pantia Prima c'è un po' di riscaldamento Ragazzi Veramente Le mani sono letteralmente congelate Facciamo un po' di game Cerchiamo di riscaldarci le manine Ho acceso anche un padermosifoni Perché letteralmente stiamo morendo E niente Poi giochiamo a tutto quello che volete Come? Oh Attenzione 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 Lui l'abbiamo preso Benissimo Vuole l'herald mid Vuole Eh ci starebbe Dai ci starebbe Ci starebbe Why not Arrivo capo Eh lo è Lo è Stranamente Table serve turn Da quanto pare Vai Piazziamoci l'herald Rettapresa nel chilling Andiamo a prendere i clissi Da qualche parte Ci sarà Molto Sì Vorrei come sempre andare Blue form Sì su Pantheon Questa roba Cioè sia black liver buff Che Buff E clissi Kinda huge Veramente interessante A mio avviso Su caino Bisogna provare Sia red che blue Voglio provare con i clissi Perché a me Intriga il nuovo clissi Che dite Ciao flamingo La fada anche l'ilia Vero vero Anche l'ilia è da provare E andare a Devare top We could Dovremmo forse Dobbiamo Non dovremmo C'è come davanti Vi dà qualcosa Allora In realtà Mi piacerebbe andare su Ma io non vedo L'altra pallina Dove ragazzi Vabbè Perché non vedevo La pallina rossa Ero entrambi Blue Non capisco Sono io tonto Ragazzi C'è qualcosa che Non mi riesco a spiegare Andiamo C'è ne out Resettiamo Si prende un'altra wave Ci sta Era sotto la blue Ah Quasi fatta Forse è un'esagerazione Però Sicuramente voleva scappare Povera roccia Che poi Eclissi In realtà Ti fa infliggere danno Anche ai tank E ti dà anche Mothspeed Eclissi Ma da sempre Figata Non lo sapevo Tante volte l'ho usato Eclissi Sul red Non mi sono accorto Ad esse Mothspeed Bellino Bellino Mi piace C'è così infliggi Pure un po' di extra Damage ai tank Non è male Mi piace Mi piace Purtroppo Mi sono fatto Scammare l'altra Che non l'ho Assettata io Ma Va bene Lo stesso Va bene Andiamo al red Questo game Stiamo snowballando Dai Direi facilmente Agilmente Però senza il prowler Il prowler mancherà Cioè Se non dovessi Di più usarlo Non so Perché il cdr È tanta tanta roba Oh come vuoi zed Ah ma io muoio Ah Non so Non pensai a morire qua Gring Oh Attenzione Il kiting No che peccato Close Abbiamo item Abbiamo Ah forse non mi conviene Lasciare questo Dai Vogliamo provare Cleaver Blue Assenza Credo di no Eh Rengar sarà broken Sì mannaggia Rengar sarà Ancora più broken Già prima era forte Poi fuori di testa Ora Grazie comunque Stavo mangiando Un po' di presaola Su weekend Sono stato fuori Non ho rispettato La dieta Kinda sad Fragolo Però riprendiamo oggi Alle 16 Alle 16 Sì Vediamo se Lord of Planeer Puscia Povero Zed Si è arreso Non sapeva cosa fare Patata E Novegro Eh ma guarda Che comunque Rengar richiede Molta skill Per essere utilizzato Molta Molta skill Quindi Sì magari Broken Però Still Il champion È veramente Complicato L'utilizzare Tra i più difficili Sicuramente Ah lì c'era una Pincozza Mannaggina Il dragon Uno Volendo No l'ha lastitato lei I sordi Ancora abbiamo Così poche stack Di Goccia Vabbè aspetta un attimo Il blue buff Che mi fa comodo Dai Grazie 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 Allora Farmiamoci Questo blue Con calma Magari a questo punto La top wave Io spero resti Oh restiamo al fight Vediamo quanto danni faccio Alla fine ho ecclissio Black cleaver Che dovrebbe essere Anti tank No Quindi pure se sono blue cane Magari non burst Però il danno Io lo faccio In teoria In teoria no Credo Io insomma Non proprio Tantissimissimo To Che oggetti aveva? Nessuno Cringe actually Vabbè Per non avere tank Cioè tank item Ancora Non lo so Non lo so Non lo so Un po' perplesso Vi dirò Vabbè Vabbè Continuiamo a pushare con calma Un po' come procede E con l'ulti dracan La potremmo affetare qua Ok ok Zato l'abbiamo presa ancora Sistiamo Ma direi che possiamo insistere A questo punto Vole giocata male Cacchio Normale L'ha letto una tachetta E mi ha salvato L'avevo sbagliata Allora qua L'herald Potremo Ma Non ci serve Per la torre Facciamoci Stato retta Senza herald Ricolliamo Col recall Dell'herald Che è veloce Oppure andiamo Un attimo Oh il carretto Grazie Vado a fare anche Raptor Allora dai Si difende Si difende Anche mid wave C'è un carretto Che fai Te ne privi Ah No no Spegni pure tutto È un po' precario L'equilibrio Di quella Oh Vabbè Vabbè la wave mid E poi Che fai Cioè Red Non lo fai Per forza Lo fai Red Cioè Sei qua Non è che te ne privi Poi c'è lo scatto Che fai Non lo fai Lo scatto Di nuovo È arrivato È arrivato È arrivato da Zed È arrivato da Zed E la wave E mamma mia Ragazzi È impossibile Recollare Questo Zed Guarda Cioè Con sta vita Meno male Sta arrivando All'ultricade In che si voleva Scammare la kill Allora Qui c'è la wave In arrivo E non posso Non prenderla Sarebbe Da criminali Rinunciare a questa wave Così Sarebbe La criminali Rinunciare all'herald No Si stanno fermando La mia jungle Botside Maledetti Ora Recoglieremo Ragazzi No Ok Meno male Ce l'abbiamo Fatta lo stesso Ultimo campo E giuro Recollo Dove piazzare anche L'herald in base Dove fare a tempo Si 8 secondi Voglio L'herald in base E compriamo un paio di item Mettiamo a mid Votto Mettiamo Vai Liberiamolo O Serpent's Fang Che scudi hanno Mal fight La passiva E basta Kai salere Cringe Prattanto ho totalmente Tanti item Che è one shot Quindi Va bene Va bene Arrivo capo Vai vai Infatti puoi ingaggiare Tanto quello è a mezzo intero Oppure non farlo Allora Il blue buff al volo Era campo Riena Sargiano 3 ore Possiamo accompagnare L'herald bot O fare il baron Anche si In realtà Letteralmente Qualunque cosa possiamo fare Gli avversari dove sono Spariti gli avversari Ora qui c'è un elize C'è un elize Peccato Forse Zed Si poteva quasi ammazzare Credo 30 la mia R Ci manca il Serilla Ci manca Poco damage No non mi sono curato Mannaggia Unlucky Chissà se il sasso Alla R Non credo Rispetto per il sasso Però Abcs Alle 15 Noi giochiamo alle 16 Perché hanno invertito Un attimo le partite Hanno fatto qualcosa Si direi che mi sembrei Un fair damage Una critica Sensata Sembra di fare Zero DPS Actually Sarà che la Blackiever Cringe anche il Serpent's Fang Probabilmente è quello Ok GG No no ma è così Come ho detto io Vortex Come ho detto io Sicuramente È così Garantito Dovrei scioglierli E te l'ho detto Allora siamo prima Contro Contro Deidara Se vinciamo Contro counter La prima è una best of one La seconda eventualmente È una best of three Questi due Jinx Ha giocato 30 game Negli ultimi tre giorni È easy Ezra Sembra molto forte Però non lo so Non lo so Perché vi dico Capito C'è Lucian Che vorrei tenere d'occhio Perché early game Anche se so Che è stato nerfato Lucian Giusto Vabbè Ora decidiamo Intanto Onoriamo Rakan Che ha fatto una buona partita Si muoveva E decidiamo un po' Qualche curicino Ce lo siamo scammato No no È fatto bene A dirimolo Assolutamente